Ciao, sono Marco Catania e benvenuto a questa nuova puntata di SOS Genitori. Oggi parliamo di una tematica sempre relativa al rapporto con i figli e il periodo Covid che stiamo attraversando, ma inquadriamo una prospettiva un po' diversa rispetto a quella che fu una domanda precedente ovvero i miei figli sono in ansia per il Covid, cosa devo fare? Oggi invece tratteremo un argomento che potrebbe sembrare opposto, ovvero i miei figli non sembrano essere in ansia per il Covid, è normale, mi devo preoccupare, oppure è un gesto di resilienza e va tutto bene. Ora, partiamo intanto da un'osservazione, da una piccola specifica. Che cos'è l'ansia? no? Quest'argomento di cui si parla tantissimo, si sente parlare spesso di ansia, ma spesso non collegato al suo reale significato. L'ansia è il correlato fisiologico della paura, è un normale stato di attivazione che comunica in qualche modo al mio corpo che è presente un pericolo e che è importante porvi attenzione, così da essere pronti a fuggire o a rispondere in caso di un pericolo. Ebbene, l'ansia a questo punto è inquadrabile come un qualcosa di positivo e tutti gli esseri umani provano ansia, per fortuna, altrimenti ci saremmo estinti diverse migliaia di anni fa. Il problema dell'ansia non è nell'ansia in sé, il problema arriva quando i livelli di attivazione, i livelli di ansia salgono al punto da bloccare, da paralizzare, da inficiare la vita quotidiana della persona. Allora, in quel caso l'ansia diventa disturbante, diventa un qualcosa di problematico. Quindi, chiarito un attimo molto brevemente che cos'è l'ansia, vediamo il discorso mio figlio non è in ansia per il Covid. Ora, ovviamente essendo una rubrica rivolta a genitori, dobbiamo fare una piccola specifica. È chiaro che affronteremo l'argomento in maniera generale, ma dobbiamo fare una distinzione anche per fasce d'età, perché è chiaro che il vissuto emotivo, la gestione emotiva di un bambino non può essere paragonata a quella di un adolescente o di un giovane adulto. Quindi cerchiamo di separare innanzitutto questi due mondi. Se il bambino non sembra essere in ansia, perché vive tranquillamente la situazione, sembra non rendersi conto del pericolo o del possibile pericolo, non è necessariamente qualcosa di strano o di non auspicabile. Chiaramente il bambino può avere diversi motivi per il quale non percepisce uno stato di pericolo, una serenità trasmessa dai genitori, una maggiore facilità di adattamento, agevolata anche dal fatto che per molti bambini lo stare in casa il pomeriggio, avere dei contatti sociali ridotti, in base alla fascia d'età chiaramente, ma se parliamo di bambini più piccoli, non è un vero stravolgimento del loro contesto di vita, perché molti bambini già prima avevano meno contatti sociali o meno uscite o meno incontri con altri, eccetera. Cosa ben diversa invece è se saliamo con la fascia d'età e ci rivolgiamo invece a quelli che sono già ragazzini, adolescenti. Allora lì chiaramente stiamo parlando di una situazione emotivamente diversa e di un contesto completamente diverso, perché già il ragazzo vive la quotidianità, il rapporto con il tessuto sociale, con il mondo in maniera molto più ampia rispetto a quella del bambino che in qualche modo è nella sua bolla. Ora, in questi casi abbiamo due possibilità, come macro categoria ovviamente. Una di queste è quella per la quale non viene visto il pericolo, cioè non viene percepita una situazione come pericolosa e di conseguenza tendo a sottostimare le possibili conseguenze. Un po' come quando non ci si mette il casco sullo scooter perché tanto io guido bene e non andrò a sbattere da nessuna parte. Sottostimo il pericolo e mi espongo di conseguenza con dei comportamenti che in realtà mi mettono a rischio. C'è però anche una seconda opzione che è anche un po' più probabile, ovvero quella in cui l'ansia c'è ma non è riconosciuta. In questo caso il problema non è realmente sottovalutato, ma anzi, per un meccanismo di compensazione trasformo l'eccesso di paura verso uno stimolo nella svalutazione di quell'elemento. Un vero proprio sublime autoinganno messo in atto più o meno consapevolmente per difendermi dalle sensazioni di paura che provo verso qualcosa. In questi casi chiaramente un piccolo indice significativo ma non sufficiente per poter discriminare qual è l'opzione reale è che in questo secondo caso solitamente questa svalutazione dell'elemento che incute timore che mi genera ansia si manifesta anche attraverso espressioni di diniego rispetto a quello stimolo. Ora, questa differenza non può essere compresa facilmente dal genitore perché non ha gli strumenti per poterlo capire. Quindi è possibile che in alcune situazioni del genere un genitore si senta in ansia a sua volta per il figlio. Soprattutto, ripeto, se è un ragazzino, adolescente, quindi una persona che comunque esce, ha delle relazioni sociali nei limiti chiaramente stabiliti al momento dalla legge, ma il genitore potrebbe preoccuparsi rispetto al comportamento del mio figlio, quando è fuori, prende le dovute precauzioni e attento, preoccupazione chiaramente più che lecita. A questo punto io approfitto di questo spazio, suggerisco di rivolgersi in questo caso a uno specialista che possa discriminare tra le varie possibilità e capire se è necessario eventualmente intervenire per lavorare su una problematica di ansia. Ne approfitto perché sottolineo che esistono, al di là di diversi psicologi sul territorio che lavorano online, ci sono diverse iniziative nate in questo periodo storico per fornire supporto a distanza o in presenza, proprio legato alla tematica Covid, a tariffa agevolate o addirittura gratuitamente, quindi può essere un'ottima base di partenza. Da un punto di vista invece più pratico, se vogliamo qualcosa da poter fare a casa, se voglio sapere cosa posso fare con mio figlio, bene, chiaramente non esiste la pillola magica, fai questo e risolverai il problema, però possiamo sottolineare che in molti casi, come avviene anche per altre circostanze, il genitore mosso dalle migliori intenzioni potrebbe ad esempio cercare di parlare più spesso del problema, enfatizzare i pericoli del Covid, enfatizzare i pericoli del contagio, enfatizzare i pericoli del non seguire tutte le misure cautelative, lavarsi le mani, mascherine, eccetera, con l'obiettivo di portare l'attenzione su quel pericolo. Ebbene, questo comportamento che ribadisco, so benissimo essere messo in atto con le migliori intenzioni, con lo scopo di avvertire, di far capire che c'è un pericolo, in realtà potrebbe provocare l'effetto esattamente opposto, cioè un rigetto ancora più ampio rispetto a quello stimolo, un incremento della paura, dell'ansia rispetto a quello stimolo che quindi andrebbe ad enfatizzare ancora di più dei comportamenti di allontanamento o di svalutazione. Ecco, in questo caso quindi, se nel tuo caso specifico, davanti a questo dubbio rispetto a come mio figlio si sta approcciando quando è fuori alla problematica, se la tua soluzione è stata quella di parlare ancora di più del problema e visto che in realtà non ha portato grandi risultati o addirittura sembra che tuo figlio continua a ignorarti o tua figlia continua a ignorarti, prova a fare la cosa un po' più controintuitiva, ovvero smetti di parlare del problema. In questo modo lasci uno spazio mentale, emotivo, di elaborazione perché eviti di alimentare, ripeto, mossa dalle migliori intenzioni ovviamente, di alimentare l'ansia e la paura che in quel momento sta provando tuo figlio o tua figlia. Ripeto, questo è un consiglio generico, non può essere applicato a tutti i casi, però se ti ritrovi in questa dinamica puoi provare a seguire questa strada. Detto questo io ti saluto, ti ringrazio per aver visto anche questa puntata di SOS Genitori e ti invito a mettere un bel mi piace sul video se ti è piaciuto, a condividerlo così che altri genitori o altre persone in generale possano usufruire di questo spazio, di vedere questi contenuti e se hai dei dubbi rispetto agli argomenti di cui abbiamo parlato lascia un commento e per quanto possibile cercherò di risponderti in tempi brevi. Ci vediamo il prossimo venerdì sempre con SOS Genitori. Ciao e alla prossima! Grazie a tutti!